Ciao a tutti e buon inizio mese. Allora, cosa succede? Volevo parlarvi un pochino di Lady Mastermind. Perché? Perché questa persona non lascia, ma anzi raddoppia. E raddoppia in diversi sensi. Perché? Innanzitutto perché fa due video, ha fatto due video. Il primo si intitola Davide Norimberti, io non mi arrendo. La seconda mi faccio bella per essere la Griscia di Davide. Allora, per quanto riguarda il primo video, ce la troviamo insomma che ha diversi look, ha un look un po' così easy, come le stessa dice, per andare a togliersi le sopracciglia. Se le toglie perché? Perché lei dice che è diversa, lei dice che insomma le sopracciglia non le piacciono, anche perché lei le avrebbe abbastanza grandi, che lei, a differenza di altre persone che invece queste sopracciglia, se le fanno ancora più grandi, si fanno dei sopracciglioni, lei invece se le toglie. Secondo lei i sopracciglioni sono il degrado moderno, a un degrado moderno, cioè io le voglio ricordare che anche togliersi le sopracciglia non è che sia tanto sta cosa carinissima, anche perché insomma comunque le sopracciglia servono a proteggere l'occhio, non è che sono state messe lì a caso, e che comunque questa pratica di togliersi praticamente le sopracciglia fa molto anni 70, quindi non è che anche lei si sia inventato poi niente di nuovo. In ogni caso, dice che lei i peli li odia, che non vuole essere schiava della pinzetta, li odia i peli, attenzione, soltanto su se stessa, perché se veramente odiasse i peli, io penso che a Davide proprio non lo considererebbe per nulla, perché sappiamo tutti che Davide insomma i peli non se li fa certo mancare. Poi la vediamo che esce dalla seduta insomma che ha fatto per togliersi questi sopracciglioni, dice che non lo farà più, anche se lei non vuole essere schiava della pinzetta, però insomma a quanto pare queste sedute le fanno male, anche se è un male sopportabile, poi non hanno estirpato del tutto questi peli maligni che si ritrovava sopra l'occhio, e quindi probabilmente dopo aver finito questo pacchetto che lei ha acquistato evidentemente per togliersi le sopracciglia, se le farà insomma a casa con la ceretta. E quindi in un certo senso anche lei schiava delle sopracciglia, chi per tenerle belle folte e chi per non tenerle affatto. La vediamo poi in un negozio di elettronica che sta scegliendo una piastra per capelli, ne sceglie uno della Imetec perché insomma il prezzo è abbordabile, la marca sembra buona e quindi sceglie quella. Dopodiché ce la vediamo seduta sulla poltrona di casa, questa poltrona un po' retro, anche gli arredi sono un po' così, un po' retro, e anche direi la carta da apparati, insomma. sembra un attimino che stia a casa della nonna. In ogni caso ha i capelli praticamente su un lato del viso, si è fatta praticamente il ciuffo, ha quella che sembra una camicina da notte color lilla, molto femminile, e comincia a parlare di Davide. Cosa dice del nostro Davide? Dice che lui è un uomo alfa come lei, perché lei si definisce appunto donna alfa, che lei vorrebbe un incontro con Davide, e che Davide si deve anche reputare fortunato, perché quando incontra, ha detto questa Lady Mastermind, chiede sempre qualcosa in cambio agli uomini. Non so cosa potrebbe chiedere in cambio agli uomini, insomma. Sono rimasta un po' così sinceramente, ma in ogni caso fatti i suoi. E dice che appunto Davide si deve ritenere fortunato, perché questa cosa, queste cose, questa eventuale forma di baratto, nel senso io ti do, tu mi dai, a lui non lo chiede. Ecco, lo fa semplicemente per un suo piacere. Quindi, cosa gli dice? Gli dice Davide, incontriamoci, andiamo a farci una passeggiata, possibilmente non ti portare Chiara, ovviamente, Chiara uscirà per i fatti suoi, tu esci con me, magari passiamo anche una notte insieme, e insomma parliamo, discutiamo, insomma, poi da cosa nasce cosa, come si suol dire. Però, dice una cosa molto interessante, dice guardate, che io non sono innamorata di Davide, assolutamente. Io appunto con Davide voglio solo una storiella, perché io sono una ragazza libera, sono tranquilla, nel senso voglio rimanere libera così, insomma, senza avere storie. E poi cosa dice? Dice anche, io sono una donna dominante, caro Davide, e quindi io ti potrei cambiare, nel senso, anche se noi ci dovessimo vedere una volta al mese, io ti do degli obiettivi, tipo scendi la pancia, tipo fai, che ne so, un po' di ginnastica, queste cose qua, e tu potresti migliorare in questo senso, e tornare quello che eri quando ci siamo conosciuti sulla chat. Ora, che dire su questo fatto che anche Lady Mastermind è dominante? E che direi anche no, nel senso che comunque Davide già sta con una donna che lo domina abbastanza, ecco, quindi un'altra donna dominante, anche se questa donna dominante lo farebbe per il suo bene, e gli direbbe cose per il suo bene, secondo me anche no. Anche se poi dice lei, e dà dei consigli appunto a Chiara, le dice, Chiara lascialo stare, ti vedo troppo presente nei suoi video, ti vedo troppo presente nel suo canale, ti vedo troppo presente, punto. Quindi, lascialo libero di esprimersi, lascialo libero di volare, tra virgolette, questo lo dico io, lascialo libero di esprimere quelle che sono le sue opinioni, lascialo libero di esprimersi, quindi non lo soffocare, ecco. Questo è quello che Lady Mastermind dice a Chiara. Dopodiché in questo video getta una bomba, cosa dice? E qua, secondo me, insomma, cominciamo ad andare su un altro piano, perché se prima qualcuno ha potuto anche credere, no, che ci fosse effettivamente un qualcosa da questa Lady Mastermind e Davide, e qui, secondo me, crolla tutto il castello di carte, perché cosa dice? Dice, ragazzi, io ho avuto anche un trascorso, tra virgolette, non ci dice cosa, un approccio, quello che sia, insomma, con un'altra persona, con un altro ex di un'altra famosa youtuber. E che sarebbe questo ex di un'altra famosa youtuber con la quale Lady Mastermind ha avuto a che fare? Sarebbe poco di meno che l'ex di Chiara Paradisi. Ora, lei non ha detto proprio il cognome, ma l'ha fatto capire, perché ha detto che si chiama, questa persona si chiama Chiara, che molti la identificano, insomma, anche con Chiara d'Alessandro, che è simile a Chiara d'Alessandro, quindi, insomma, praticamente è Chiara Paradisi. A quale ex lei si rivolga? Insomma, io penso ad Ale, ecco, penso che un po' tutti abbiamo pensato ad Ale. E secondo me, appunto, questa è una sesquipedale, come si suol dire, cavolata, nel senso che, comunque, lei stessa ha detto che sta facendo le cose per visual e questo è soltanto un altro modo, appunto, per farle. Anche perché ha detto che parlerà di questa cosa soltanto quando arriverà a mille iscritti. Quindi, ragazzi, cosa dire? Cioè, andare ancora dietro alle cose che dice Lady Mastermind o far cadere il tutto, insomma, perché probabilmente racconta delle stupidaggini, giusto per fare visual? Ecco, cioè questo ha i posteri la tua sentenza. Per quanto riguarda il video Mi Faccio Bella per Essere la Geisha di Davide, cosa fa? Va dal parrucchiere perché ha una recrescita abbastanza consistente e ovviamente vuole fare il total blonde. Dice che lei ha i capelli sani, a me, sinceramente, tutta questa cosa dei capelli sani io non la vedo perché, insomma, mi sembrano anche un pochino sfibratini, sarà che io sono un po' critica per quanto riguarda i capelli. In ogni caso, si è fatta la ricrescita, però anche su quella io ho dei dubbi perché a me sembra che al posto della ricrescita nera ci sia un bel colore tendente al violetto invece di essere un bel biondo omogeneo. Comunque può essere il gioco di luci, può essere la telecamera, possono essere tante cose, può essere anche semplicemente una mia impressione. In ogni caso, precisa in questo video che non è stata lei a segnalare la live di Dama perché lei non conosceva né l'esistenza della Dama stessa né tantomeno l'esistenza della live. E dice che per quanto la riguarda si può parlare di lei tranquillamente, si possono anche prendere spezzoni e usarli dei suoi video perché tanto a lei finché non si fa diffamazione, questo non interessa, lei dice che è per la massima democrazia. E niente, io nel frattempo che vi sto dicendo questo sto leggendo un altro titolo di un suo video che si intitola Ho fatto la cacca in diretta. Che dire, Davide praticamente dovrebbe sganciarsi un pochino da Chiara per mettersi con un'altra persona che è questa Lady Mastermind che si definisce anche lei donna dominante che fa le cose per visual, a quanto pare l'ha detto anche lei, e che fa anche la cacca in diretta, come dire, dalla padella nella braccia proprio. Quindi, Davide, pensaci, pensaci fortemente. Se mai, insomma, ti è venuto anche un attimino il dubbio di poter avere un liaison con questa persona, sappi, insomma, che ti troveresti due donne dominanti al fianco. Quindi non so fino a che punto questa cosa ti possa convenire. E niente, ragazzi, questo era tutto. Io vi ringrazio per avermi ascoltata. Se volete lasciatemi un like, se volete lasciatemi un messaggio, se volete iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e ancora buon inizio di mese. Un bacio.